Cattellino giallo E' un'opzione per l'altamura E' un'opzione liquide dell'area, Mucchio, Montrone, lascia scorrere il pallone che finisce tra le braccia di Picchi Questo Montrone alla portazione Com'è che non mi sta caricando il telefono? Com'è che non mi sta caricando? Com'è che non mi sta caricando? Com'è che non mi sta caricando? Com'è che non mi sta caricando?